Regione Toscana, il consiglio regionale. E' iniziata con questo video la seduta solenne del consiglio regionale della Toscana dedicata alla festa dell'Europa. La festa si è diffusa nel territorio e per celebrarla la Toscana si è illuminata di blu con edifici accesi in oltre 100 comuni della Toscana, comprese tutte le città capoluogo. Al Palazzo del Pegaso il consiglio regionale ha celebrato l'appuntamento con un video saluto del presidente del Parlamento europeo David Sassoli e gli interventi dei consiglieri e della Commissione Europa. Si è parlato dell'importanza dell'Europa, della scuola, dei vaccini e del recovery plan e del Next Generation EU, il piano di ripartenza dell'Europa. Il 9 maggio rappresenta per ciascuno di noi cittadini d'Europa la celebrazione di un percorso di integrazione, di prosperità, di pace che ci ha accompagnato per oltre 70 anni. Mai come in questo momento risuonano attuali le parole, in particolare di Robert Schumann, quando nel 1950 aprì la sua celebre dichiarazione e gli scrisse l'Europa non potrà farsi in una sola volta, ne sarà costruita tutta insieme, ma si farà attraverso realizzazioni concrete, creando prima di tutto una solidarietà di fatto. La forza di quelle parole attraversa la nostra storia comune ci indica la strada che dobbiamo percorrere. Anche quest'anno la ricorrenza della Festa dell'Europa coincide con un momento davvero complesso per le nostre comunità. Per l'Unione Europea e per il mondo la drammatica crisi del Covid è stata un vero e proprio spartiacque e lo sarà anche in futuro, perché è un evento devastante, inatteso. Il virus è riuscito a mettere in evidenza le contraddizioni di un mondo globale senza regole, che specialmente negli ultimi vent'anni non ha fatto altro che produrre fratture, disuguaglianze nel nostro corpo sociale. Tutto ciò ci pone dei grandi interrogativi, come cittadini, come decisori politici. La risposta è che non possiamo tornare al mondo di prima. Mi rivolgo soprattutto ai giovani studenti che sono collegati, che saluto. La pandemia non può essere una parentesi, ma deve essere considerata un'occasione per cambiare, per progettare insieme un futuro più giusto, con meno disuguaglianze. Sappiamo che quando fu avviata la costruzione europea era con dei fini ben precisi, la pace, la ricostruzione. Ormai il mondo è cambiato e questi fini forse non hanno la stessa forza agli occhi delle giovani generazioni. Ma dobbiamo chiederci, non ci sono oggi motivi di un'altra natura che ci portano a fare lo stesso tipo di scelte? Prendete ad esempio la situazione in cui ci troviamo ora per via della pandemia, in cui è impossibile immaginare che un Paese da solo riesca a far fronte ad una minaccia, a una sfida di una tale ampiezza. Va detto che in questo contesto il ruolo dell'Europa è stato decisivo. In un campo, permettetemi di ricordarlo, in cui in teoria quello della salute non è di competenza europea. Eppure abbiamo visto quanto decisivo è stata l'azione delle istituzioni europee. X-Generation Europe che è un esempio senza precedenti di solidarietà fra i Paesi. molto importante. In realtà il giorno dell'Europa, sappiamo, è il 9 maggio e si sono susseguite tante iniziative che oggi trovano la loro legittimazione per la Toscana con la seduta solenne. L'Europa è il nostro punto di riferimento da un punto di vista anche concreto nella percezione della gente oggi che si parli di vaccino e magari non troppo in positivo rispetto alle modalità con cui l'Europa ha fatto le sue contrattazioni a livello internazionale. O che si parli di recovery fund, qui veramente in positivo perché la speranza della ripresa e della ripartenza nasce da questa iniziativa che partita con il protocollo sui 209 miliardi del luglio scorso firmato dal Presidente Conte diventa l'elemento per la ripresa, la resilienza, la ripartenza del nostro Paese. L'Europa è sempre più nelle case dei nostri cittadini e allora vale la pena vivere come la Toscana ospita l'Università Europea. Devo dire che sotto questo aspetto il prossimo anno saranno 50 anni, da quel 1972 quando esponenti che nel nostro Paese erano toscani e avevano ruoli importanti, penso a Da Vintore Fanfani, a Giorgio Lapira, vollero che fosse proprio nelle colline di Fiesole avere un'università che dalla Toscana fosse l'università per la formazione della nuova classe dirigente in Europa. O si parla dei rapporti che possono portare nuovi investimenti come vi dicevo non solo dei recovery fund ma anche del settennato dei fondi europei che parte proprio dal 2021 per arrivare al 2027, l'Europa è cruciale nella vita di tutti noi e sempre più deve essere un'Europa che si integra, che parla alla gente, sempre più un'Europa che le decisioni le prende come Europa dei popoli non come Europa degli Stati. Non arriveranno in Toscana, arriveranno in Italia. Consentitemi, c'è una percezione un po' sbagliata del recovery plan, non è un qualcosa come la gente pensa che c'è una cifra, si divide per 20 quante sono le regioni italiane e vengono spesi. Il contrario, è un progetto molto centralizzato per cui i soldi arrivano a Roma, arrivano a una cabina di regia che il Presidente del Consiglio ha attivato e animato, i soldi si legano a progetti di riforma nazionale, due in modo particolare, quello della giustizia e vedete che infatti oggi i giornali cominciano a rendersi conto e a concentrarsi su questo, perché la semplificazione informatica si lega alla semplificazione delle procedure del nostro processo penale e civile e quello della pubblica amministrazione, perché il grande investimento per semplificare la pubblica amministrazione è il convertire la carta in online e quindi in grandi progetti di innovazione telematica e informatica. Accanto a questa dimensione che è quella su cui si è concentrato il Parlamento e ha approvato un documento di circa 300 pagine del Presidente Draghi esattamente entro il 30 di aprile, vi sarà la fase in cui lo Stato farà atterrare risorse su progetti esecutivi concreti, che saranno una parte del Recovery Fund nella quale le regioni, i comuni e le province hanno un ruolo e il ruolo di preparare i progetti esecutivi per poter concorrere ai bandi di questi progetti. Lo abbiamo voluto con forza e ringrazio il Presidente Gazzetti, tutti i membri della Commissione Europa per dare un segnale, un segnale importante. Oggi abbiamo sempre più bisogno di Europa e tutto quello che noi oggi diamo per scontato, il ruolo che ha giocato l'Europa in questi anni, un'Europa che è uscita dalla guerra più forte grazie alla capacità di persone che hanno creduto davvero a mettere insieme popoli differenti. Il manifesto di Vento Tene, Altero Spinelli, le parole di Schumann il 9 maggio 1950 sono una rotta che noi dobbiamo provare a seguire sempre. L'Europa è luogo di opportunità, è luogo in cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi devono costruire il loro futuro. Certo, l'Europa va migliorata, ce ne siamo resi conto in questi terribili mesi della pandemia e oggi questa iniziativa che ha avuto l'onore di aver presenti con la loro prolusione il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e il Presidente Deussè danno il senso e il valore simbolico di quanto sia importante mantenere un legame forte tra la Toscana e l'Europa, di quanto la Toscana debba lavorare per essere sempre più un luogo in cui poter mettere a terra le tante iniziative che nascono a livello europeo. Una sfida che abbiamo, che stiamo cogliendo, una sfida che non ha colori e connotati politici e una sfida per dare più risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana. Abbiamo iniziato in questi mesi un lavoro che ci porta a dare il nostro contributo, a capire quelli che saranno i fondi, quelli che sarà la politica dell'Europa e noi essere presenti e testimoni di quello che dovranno essere poi dopo gli investimenti che dall'Europa arriveranno all'Italia e di conseguenza verranno poi dopo riportati sulla Toscana. Per cui siamo al lavoro, abbiamo fatto tante audizioni, abbiamo ampliato le nostre conoscenze e speriamo nel breve tempo possibile di poter essere a disposizione dei nostri concittadini per poter dare il nostro contributo. La Commissione Europa è una realtà che era presente all'interno del Consiglio regionale da tempo. In questa legislatura è stata trasformata in una commissione permanente e quindi ha un ruolo e anche un peso politico sicuramente diverso. Tra l'altro questa trasformazione noi la dobbiamo grazie al lavoro proprio della precedente legislatura, a chi ha guidato e a chi ha collaborato ovviamente con il precedente Presidente. In questa nuova versione noi ci siamo dati degli obiettivi e soprattutto stiamo cercando di lavorare all'insegna di un clima che è un clima di cui io vado particolarmente orgoglioso e fiero, ovvero quello di una collaborazione e soprattutto una condivisione. Noi abbiamo portato a termine una proposta di legge che è servita a istituire la festa dell'Europa in Toscana, è l'avvio di un percorso che è stato accompagnato anche da altri segnali, ad esempio l'inserimento prima dell'avvio delle sedute del Consiglio regionale e anche dell'esecuzione dell'inno europeo. Questo perché? Perché bisogna dal nostro punto di vista partire dai simboli per poi passare ovviamente a un lavoro quotidiano sulla grande concretezza delle opportunità che discendono dall'Europa, perché sotto gli occhi di tutti che le grandi prospettive legate al next generation, al recovery, passano proprio dalle indicazioni e dalle scelte fatte dal livello europeo e se noi sui territori, nella fattispecie in Toscana, potremo essere in grado di cogliere tutte queste opportunità. Durante i lavori di questi primi mesi ci sono state molte interlocuzioni e mi piace mettere in evidenza come nel rapporto, ad esempio, sia con gli europarlamentari di tutte le espressioni politiche, ma anche con i territori, ascoltando ad esempio Anci e Upi, noi abbiamo raccolto spunti che pensiamo proprio per la concretizzazione e l'applicazione delle opportunità legate al next generation, noi ci auspichiamo, possano essere utili. Proseguiremo in questo lavoro, voglio ringraziare tutte le commissarie e tutti i commissari. Questo Consiglio regionale sembra voler prendere il tema dell'Unione Europea più seriamente di quanto si sia fatto finora. Dobbiamo ricordarci che è importante che il rapporto con l'Europa sia sempre bionivoco, cioè l'Europa deve sempre avere presenti quelle che sono le situazioni delle singole regioni e questo rapporto di bionivuscità deve essere anche propositivo, le regioni devono proporre. Io devo dire che finora la Commissione ha proposto questa festa, ma in realtà non c'è stata molta attività in più, ci sono state delle audizioni, la proposta che è stata fatta per il PNRR non è stata così forte come noi avremmo voluto, ma soprattutto c'è qualcosa che la Regione Toscana deve dire con forza, che l'Unione Europea avrà senso se tutti gli Stati e tutti i cittadini di ciascuno Stato avranno pari dignità tra loro. Finché esisteranno le possibilità, come è successo nel caso della Germania, di poter avere o chiedere un numero di vaccini superiore per il proprio Paese, ecco questi sono i segni che fanno capire che l'Europa non è ancora quella che chiedevano Schumann e Spinelli, non siamo ancora quell'Unione di Stati con quel senso solidaristico che dovremmo avere. È questo che la Regione Toscana, ma io dico tutta l'Italia, deve pretendere dall'Unione Europea. Se saremo un'Unione solidale avremo ragione di essere e daremo finalmente uno spirito nuovo a questa Unione che comunque sia permesso in questi 70 e più anni di non avere più guerre all'interno del suo territorio e questo sicuramente è una grande conquista. Grazie a tutti.